salve ragazzi ben ritrovati in un nuovo video avete visto già l'introduzione un piccolo inizio avete già capito con chi sono questa mattina tanto per cominciare forse l'avete già capito dal titolo si sta andando a fare un piccolo giletto ma pochissimi chilometri più che altro la mia meta è di cercare o meglio di trovare riuscire a trovare qualche castagna qualche una ventina di giorni fa circa gli alberi erano carichi ora se poi sono cadute e l'hanno raccattata la gente del posto è molto probabile però io tento l'anno scorso non trovai niente e due anni fa invece ritrovai una sacchettata continuiamo guardate ragazzi se amate funghi quante ce n'è qui sicuramente sono quelle le teste di tamburo l'ho chiesto a omara se erano sui testi tamburo la sua risposta è stata non me ne intendo di funghi qualche anno fa l'ha anche raccattata se l'è mangiata la sera e vabbè come al solito lui quando ti fermi non ti aspetta mai cosa risaputa io lo prendi così ora vediamo un po dove è arrivato si gira mai non si gira mai lui è venuto da solo ci siamo incontrati qui per puro caso sembra senti la fatica da 1 a 10 quant'è 10 10 e sei stanchissimo quindi come torni dopo torno intanto arrivo su poi mi metto a sede un quarto d'ora 20 minuti poi prendi la funicolare diceva omar fai prima andare all'est lunga a comprare le castagne si è vero ma io non sono venuto esclusivamente per cercare castagne sono venuto anche per farmi un giretto qui sui sentieri e poi uno è più bello trovarli che andare a comprare e come ricercatori di funghi potrebbero anche loro andare su quel mercato e comprarli vediamo un po signor omar che fa la fatica d'ercole ragazzi è arrabbiato anche si è trasformato in comico allora lo so ma te lo dovresti sapere che quando sei con me entri per forza in un mio video è obbligatorio allora vediamo un po qui è già il primo punto dove ci sono delle castagne allora vediamo un po io quelle piccole non le voglio davvero voglio di trovare quelle grosse ora lì c'è la panchina mi fermo un secondo così faccio anche colazione e do una controllatina ma mi sa che qui è già tutto spolverato perché c'è tutta roba piccola questa qui uno si potrebbe andare bene un po se trovo qualcosa tanto mi fermo un secondo qui colazione fatta e ho deciso di non proseguire qui su perché ci sono vari passaggi di cinghiale e probabilmente ragazzi qui è stato tutto spolverato tutto niente qui non c'è proprio niente quindi non merita neanche continuare a camminare cioè cammini cammini per niente allora abbiamo deciso io e Omar di andarci a fare un giretto qua sul paese a molti tini alti e lasciamo perdere è tutta robetta piccola vedete guardatela guardate come sono piccole guardate perfino questa qui com'è troppo piccola c'è nulla di grosso tutto tutto quelle grosse hanno tutte mangiate cinghiale perché qui vi faccio vedere qui c'è un sentiero che è fatto dagli animali lungo la rete e poi va a finire nel buco e quindi chissà dove vanno passano di qui ora qua facendo un altro qui c'è un altro castagno e là c'è un altro ancora si la fontana è più avanti ragazzi questo è quello che vi dicevo sempre del mio canale che il mio canale è vario perché io parto per un'idea e poi cambio idea posso cambiare idea nel bel mezzo del video come dicevo con Omar spero di non essere io il motivo del tuo canale no 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 come dicevo prima con Omar io potevo passare dall'esse lunga prendere una bella cesta di castagne grosse nascondere nello zaino e fare furbo a un certo punto quando erano nel bosco le buttavo un po' a terra e dicevo vada cante non trovate creare un fake video eh sì invece sono molto sincero vi dico che ci rinuncio perché un applauso alla sincerità sono tutte piccoline e quindi ho deciso con l'amico qui barba papà è vero di farci un giretto tranquillo qui e le castagne ce le andiamo a comprare qui alla bottega sì le castagne si vanno a comprare alla bottega ecco così si festeggia guarda perché non sappiamo a che orario fa ora vediamo ora ci facciamo un giretto tranquillo qui dentro il borgo il borgo medievale e poi si rientra là vediamo tanto per il momento abbiamo già fatto la bellezza di due chilometri quasi due chilometri ai tempi d'oro erano nulla due chilometri ora invece mi risento siamo partiti dall'inizio che era sui 50 metri di altitudine ora siamo a 200 metri infatti sento già il tuo respiro un po affannato che si invecchia precocemente anzi tra paio giorni siamo senti nel 47 nel 48 ragazzi fra qualche giorno sarà il suo compleanno gli volete fare un regalo vi lasciamo il suo iban accettati baiocchi e baiocchi non le monete baiocchi e biscotti e bitcoin e bitcoin adesso ci siamo fermati qui a questa bottecina che si chiama emporio rinaldi sopra montetini alto e oma si sta facendo fare una schiacciatina io ve l'ho fatto colazione e me l'ha detto chiaro e tondo basta stop non ha più voglia quindi avrebbe già detto se vuoi continuare vai da solo le sue solite processioni via va meglio detto che intanto mi va bene anche rimanere per qui facciamo diretto per qui a montetini alto e poi vediamo si ritornano in giù lui quasi quasi vorrebbe quasi anche prendere la funicolare è proprio morto un ragazzo ragazzo mia tanto ragazzo fa 48 anni ora una volta andate bella la piazza a questo era qui senza un'anima la stagione è finita ora c'è un gioco montegatini alto riapre in primavera questi posti qui oppure di del weekend se probabilmente si non vedo aperto nulla nuova colazione guardate omar dove è andata a farsa aveva paura che gli rubassi la merendina siamo ripartiti il nostro giretto siamo quasi arrivati al termine in pratica non si è camminato tanto si è fatta appena tre chilometri però omar è fuori allenamento quindi e poi le castagne come vi ho già detto non ce ne sono se voglio le castagne le vado a prendere come ho detto prima all'ese lunga e adesso si arriva vicino alla funicolare si scende giù per la crucis per la via crucis se è accessibile che non abbiano messo le transenne e poi si si prende il sentiero 39 e si rifà la strada di prima per ritornare in giù va bene anche fare un giretto così tranquillo siamo tutti quasi da far merenda fare colazione più che altro allora visto che la strada della via crucis è sbarrata da transenne noi abbiamo optato per la via delle pietre cavate così ci facciamo anche un altro giretto alla panchina alla panchina gigante che poi che quella vabbè ci sarebbe da parlare ha detto ci sarebbe da parlarne ragazzi però sta zitto perché sa benissimo che sta andando sul canale youtube e quindi poi lo vanno a cercare a casa li strappano qui ci sarebbe da parlare la barbetta omar cosa ti ricorda questa bilancia no ma non ti ricorda nulla in particolare mi ricorda tante cose ma in particolare il peso che avevo prima del covid no ma quando veniste che vi siete misurati te e stefano con un gettone solo vi siete pesati in due allora c'è questa breve discesa molto spacca ginocchi e poi c'è un tratto di sentiero come potete vedere che ci porterà alle pietre cavate praticamente questo qui sarebbe il sentiero 38 tutto questo che stiamo percorrendo adesso e siamo arrivati finalmente anche alla panchina gigante allora è partito con il suo pippone eccoci qua alla mitica panchina gigante tanta tanta roba l'unica cosa è che ci camminano con piedi qui sopra come fai a fatti le foto e sederti qui sopra bisognerebbe mettere un cartello che è vietato camminarci con piedi è una panchina non è un ponte salutiamo la panchina gigante perché omar non ci aspetta e si scende giù di qua voi vi chiederete perché non ti aspetta perché è un caprone cioè noi si parte insieme e poi sembra che si va a fare o un cammino o un trekking ognuno per conto suo guarda dov'è qui a destra ci sarebbe anche la scorciatoia che porta alla scuola alberghiera che l'abbiamo già fatta una volta io e omar soltanto che è un po' è brutta perché passa tra le sterpaglie che a me non mi piace questa è la via dello schiavo quindi ora mi levo la scintola che non c'ho e ti frusto manca 300 metri al quinto chilometro allora dopo sei chilometri e mezzo saluto omar perché siamo arrivati a un bivio che lui praticamente andando a diritto facciamo molto prima per arrivare a casa adesso siamo quasi a sette chilometri sono arrivato alla stazione grande del treno beh devo ammettere che è stato un bel giretto questa mattina eccoci fuori dalla stazione e adesso ci aspetta circa un chilometri prima di rientrare alla base nel frattempo sono scattati sette chilometri niente non c'è da dire niente altro vi dico soltanto che siamo arrivati alla fine di questo video spero che vi ho tenuto compagnia e naturalmente se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al mio canale e se non volete perdere neanche un video attivate la campanellina perché così vi arriva la notifica vi auguro una buona giornata a tutti e alle prossime ciao a tutti